Andiamo a svegliare i ragazzi. Andiamo a svegliare i ragazzi. Ciao. Il billy è in coma. Ma te in pratica hai così tante tavole che le usi come porta chiave. Devastanti. Buongiorno mondo. Buongiorno mondo. Dovrebbe essere un pompelmo. Secondo me sì. Ognari ma che figo che è iniziato a piovere. Siamo sotto la tettoia del Lido e c'è la pineta. Questa è la piazza. Mi ha ripreso altre luoghe. Mi fa per favore. Buongiorno. Buongiorno. Facciamo un po' di finger non preoccupatevi. Sti cazzi. Non so cosa dire. che figata. Che figata. E' incredibile. Mi nascondo. E' la sua. Eh gira però eh. E' di Mila vecchio. Sopra uno dei mezzi più eleganti. E' Ardacia. l'azzo. Ma che cos'è il fingerboard ragazzi? Ma ve lo spiego. E' grandi mangiate. Grandi bevute. E viaggi interstellari. E viaggi interstellari. E' bellissimo. Ma questo è marmo. Mamma mia. Incredibile. E' bellissimo ragazzi. Che stile cos'è quella roba lì? Madonna. Aperitif. Wow. 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 Calda. Buonissima. E' maionese? Ah ok. Qua. Ce l'hai te il terreno se l'ho toccato? Sì. E ce l'hai lì? E forse la cattola. E' buonissima. E' buonissima. Cos'è quello? E' il prosciutto croccante vecchio. No madonna. Adesso vedisca il prosciutto croccante. Vado a vedere. Oddio. Ma mamma mia. Cappelletti. Cappelletti. Dio boi. Cappelletti. E' giusto. Mila che obbliga l'obbietto a bere. Cappelletti. Vedi perché se no. Non andiamo d'accordo. Oh buoni ragazzi. bene ma che bella maglia allora raga guardate che bomba questo gru finger Scusa vecchio! Stoccole che danno il culo e basta. Su Youtube questa? No, arrivano... Ma che stile! È abbastanza pazzesca. Se non fosse per guardare... Inclina, inclina, inclina. No, no, mi va là, arrivano 9 al quarto. Va bene. Ok, c'è la topa. Porco Dio! Pippi! Allora mettiamo il parque fuori. Guarda, hai le mani gelide. No! PIZZA! C'è la pizza! C'è la pizza! Arriva la pizza! Smeg mai cappella! È la mia, è la mia, è la mia smeg mai smeg. Allora questa è la mia. Oh, due notali! Due notali alla birra. Birra soufflette di sera. Un Fronze in Kipri la sfiora. Bello come i baffi di Bles e di Mila. Il fingerboard ci accomuna. La Fiat che ci accompagna. Casoncelli sono cappelletti in Romagna. Lerio e Dilli. Ma codio raga! Che bomba ragazzi! No vabbè, lui ragazzi fa la pitta con i gnocchi. Fagioli e cipolle. Lui fa la pitta con i gnocchi. e se il bene donna chiedila. Che urla. Che urla. 這裡! I am Euha GRANDE Việt...